Ciao a tutti, oggi siamo qui per vedere gli switch di Cherry, i Cherry MX, noti soprattutto in ambito gaming in quanto sono uno dei principali componenti delle tastiere meccaniche che ultimamente stanno andando per la maggiore per quanto riguarda appunto il comparto gaming. Cherry ha recentemente presentato per il mercato italiano la sua gamma di tastiere mouse, sono stato alla presentazione e sono riuscito ad ottenere questo piccolo campione che volevo mostrarvi in quanto in questo sono riassunti diciamo quelli che sono i principali pussanti Cherry con le varie colorazioni. Come ben sapete probabilmente ogni tastiera meccanica ha i suoi switch e Cherry in questo caso differenzia quattro tipi di switch blu, rosso, marrone e nero. Ognuno ha un diverso tipo di utilizzo e un diverso tipo di feedback ecco e quindi diventa importante nella scelta della tastiera riuscire a capire quale può essere il miglior compromesso per la propria scelta. ovviamente non tutte le tastiere meccaniche utilizzano gli switch Cherry, alcuni brand utilizzano soluzioni proprietarie ma diciamo che Cherry in questo campo è quello che è detta legge perché se non tutte ma la stragrande maggioranza implementa i Cherry MX. Ok quindi andiamo a vedere nel particolare quali sono le differenze dei vari colori. Ok quindi eccoli qua, queste sono le principali colorazioni che potete trovare nelle varie tastiere in commercio. Abbiamo quindi come dicevo blu, rosso, marrone e nero. Quali sono le principali differenze? Sostanzialmente abbiamo diversi tipi di feedback e diversi diciamo livelli di pressione. Il feedback può essere uditivo oppure lineare come lo nomina Cherry e quindi abbiamo ad esempio un feedback uditivo nel caso degli switch blu che come vedete alcuni lo nominano click perché proprio si sente la pressione del tasto. Poi abbiamo una via di mezzo diciamo tra l'uditivo e il lineare che è quello secondo me marrone che anche in questo caso si sente leggermente, ok? Un po' meno rumoroso però si sente ancora un po' la pressione, si sente ancora un po' a livello uditivo e ma soprattutto si ha anche un leggero feedback tattile, ok? Su questo ovviamente non posso dirvi qual è la mia impressione perché è una cosa che proprio si sente con il dito però si sente. Anche qua nel caso dallo switch blu si sente esattamente il momento in cui lo switch va in pressione, si va in attivazione. Poi abbiamo il rosso e il nero, ok? Il rosso e il nero a mio modo di giudizio sono sostanzialmente quasi la stessa cosa. Diciamo che il rosso è leggermente ancora più spinto verso l'ambito gaming ma soprattutto poco consigliabile secondo me per chi utilizza la tastiera anche per scrivere. Ve li faccio sentire un attimo, ok? Abbiamo il rosso. Quindi a livello uditivo sono praticamente identici, si sentono molto meno rispetto ad esempio al blu. Ok? E qual è la differenza tra rosso e nero sostanzialmente? è una che quando si va a pressione, ok? Semplicemente il nero fa un po' più resistenza a scendere, ok? Mentre il rosso va giù veramente molto semplicemente, molto facilmente, il nero fa ancora un pochino di pressione, fa ancora un pochino di resistenza a scendere, diciamo ad attivare lo switch. Quindi queste sono sostanzialmente i quattro Cherry MX. In commercio non è detto che li trovate tutti o comunque alcuni brand fanno delle scelte in base onestamente non so a che cosa. Quindi commercializzano il blu piuttosto che il rosso, sebbene siano magari tastiere spinte anche per il gaming. Quello che posso consigliarvi io è che il blu, dato che l'avete visto anche nella recensione della mac, della tastiera mac, è consigliabile per chi scrive, ma fate attenzione alla sua rumorosità. Però, per quanto riguarda il gaming, io ho avuto modo di provare una Cherry, una tastiera Cherry con MX rossi e per il gaming onestamente mi sono trovato decisamente meglio con i Cherry MX rossi. Per quanto riguarda gli altri due, secondo me sono un po' più una scelta personale, chiaramente è difficile stabilirlo a priori senza avere la possibilità di testarli, ecco. E questo è il motivo per cui ho voluto fare questo video, per cercare di darvi un'idea magari un po' più precisa di quello che sono i Cherry MX. Ok, è tutto, al prossimo video. Come vedete la piastra in alluminio con le viti che si possono svitare con la chiave esagonale in dotazione. ��amente E E E E E